Buongiorno, sono il Dottor Manzi, sono il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Terni, sono qui per portare il saluto a questo convegno incentrato sulla circolazione extracorporea e quindi sul supporto alle funzioni di circolo organizzato dal Dottor Ferilli che è il direttore del Dipartimento Cardiotoraco Vascolare dell'azienda ospedaliera di Terni. Questo convegno molto ricco, molto interessante, si inserisce in un percorso di potenziamento del Dipartimento Cardiotoraco Vascolare che l'azienda sta supportando in questi ultimi mesi, in particolare si è dato seguito alla nomina del primario cardiochirurgo, del direttore della cardiochirurgia Valentino Borghetti che è stato confermato nel suo ruolo dopo diversi anni di facente funzioni. Il Dipartimento Cardiotoraco Vascolare dell'azienda di Terni è una pedina fondamentale in un DEA di secondo livello come l'azienda ospedale di Terni ed è un elemento assolutamente indispensabile nella garanzia della continuità assistenziale per le funzioni dell'emergenza e per la rete delle patologie tempo dipendenti. La cardiochirurgia di Terni ha una tradizione pluriannale e naturalmente l'intenzione dell'azienda è quella di continuare a mantenere questa tradizione. Tutto il Dipartimento ha una vocazione per l'emergenza e questa vocazione viene in qualche modo confermata anche dagli investimenti regionali che hanno culminato nella realizzazione dell'eli superficie all'interno del perimetro dell'ospedale di Terni, e di superficie che è stata inaugurata il 29 settembre che già è operativa al 100%. In questo senso la direzione continuerà a supportare la capacità di sviluppo tecnico-professionale del Dipartimento Cardiotoraco Vascolare.